Chi si è proprio spappolato il cervello? Ma... Ma è Cristo. È bellissimo stare fuori dall'ospedale e non dover prendere tutte quelle pilule. Le gambe mi ci stavano quasi paralizzando, forse di stare estraiato tutto il giorno. Su serio. Mi sentivo come... T'ho in carta pecorito. È bellissimo essere fuori, sai? Che ci facciamo qui allo zoo? Ah, e niente. È che lo zoo mi piace un sacco, sì. Lo sto bellissimo, specialmente quando nevico. Poi, sai, c'è un odore di pulito, non te lo so spiegare. Non ti piace lo zoo? Sì, sì, mi piace lo zoo. Sì, anche a me. Sai, ti volevo chiedere... Tu che progetti avresti, diciamo, per i prossimi 40 o 50 anni? Come sarebbe? Ti volevo chiedere se... Se per caso ti dispiacerebbe molto sposarmi. Cosa hai detto? Ho detto se ti dispiacerebbe molto sposarmi. Sì. Mi piacerebbe sposarti. Sì? Sì. Sì? Sì. Sarò buonissimo, te lo prometto. Non farò niente di male. Non lascerò i capelli nel lavandino, cose del genere. Giuro. Vivremo benissimo insieme, sul serio, eh. Ehi, noi ci sposiamo, lo sai? Puoi venire? Puoi uscire a fine settimana? Ti mando un invito, mister Tigre. È la fine del mondo, vero? Sì. 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 Sì.